Mi chiamo Francesco Tosto, sono un vettore nella Liga Champions Globale. Il vettore consiste nel vettore del vettore, il servizio di servizio di vettore e tre vettore. La responsabilità del vettore è la proposta del vettore dei bambini durante la competizione. Il nostro lavoro inizia quando la table è aperta e consiste in un sistema organizzato per la FTI o SAP. Durante la classe, il nostro team sta all'area principale ed è pronta in caso di un'emergenza o un accidente. Il mio lavoro può essere abbastanza stressante perché ho trattato i migliori bambini del mondo. Mi piace il mio lavoro nel globale perché ho lavorato con i vettori e posso incontrare molti persone. Vettore, vettore, vettore. È un'atmosfera grande.